Il Paris Saint-Germain ha vinto 2-1 contro il Liverpool grazie ai gol di Bernat e Neymar e resta così in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. Mbappé e compagni sono adesso secondi nel girone C a 8 punti dietro al Napoli che è primo a quota 9 grazie al 3-1 sulla Stella Rossa. I partenopei però all'ultima giornata affronteranno ad Anfield i Reds di Klopp terzi a 6 punti in un vero e proprio match da dentro o fuori. Negli altri gruppi qualificazione rimandata anche per l'Inter che torna da Wembley sconfitta dal Tottenham per 1-0 mentre il Barcellona già qualificato ha vinto anche in trasferta a Eindhoven contro il PSV. Staccano invece il biglietto per gli ottavi di finale con una giornata di anticipo Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Porto e Schalke 04. Grazie a tutti!